Questa stampa a me spetta una brevissima introduzione, dopodiché lascerai il tavolo a Giovanna Rossiello che è nota tra gli amici del teso settore per essere una giornalista da sempre attenta al nostro mondo e ci segue con grande passione e gliene siamo grati. Anche in questa occasione perché se mi vedrete un po' scappare insieme ad altri colleghi parlamentari perché fra un po' cominciano le votazioni sulla legge elettorale, potete immaginare. Quindi dobbiamo essere tutti presenti e non sono concesse assenze. Dunque, ringrazio i colleghi giornalisti, ringrazio anche gli amici del sistema, appunto i cantieri del bene comune. Provo soltanto a dire quali sono state le idee, i pensieri che ci hanno indotto a costruire questo network del terzo settore, degli eventi di terzo settore che andiamo a chiamare appunto i cantieri del bene comune. Il primo pensiero è che questo nostro mondo, oltre che essere composto da associazioni, da enti, da fondazioni, da cooperative, da volontariato, è anche un mondo che produce eventi, che produce manifestazioni, che convoca nelle proprie città, in numerose città, persone, famiglie, politici, proprio per far presente e raccontare le esperienze di bene comune, appunto, le esperienze di solidarietà che rendono questo Paese, un Paese, io dico ancora, un buon Paese, un Paese che, nonostante la crisi, regge, perché appunto, come ci ricordava, un pensiero che ho sempre in mente, il Presidente Ciampi, in un incontro, ci ricordava e ci definiva come una delle dorsali strategiche più importanti di questo Paese. Questo è stato, come dire, il marchio che ci ha donato Ciampi in questo incontro di qualche anno fa. Ci disse proprio, insieme a tutte le altre infrastrutture, il terzo settore, il volontariato, l'associazionismo, la cooperazione, le fondazioni, sono una delle dorsali strategiche più importanti di questo Paese. E ce ne siamo accorti anche in questi anni di lunga crisi. Questo Paese regge, resiste alla crisi, che è una crisi lunga, ahimè, ancora non superata, regge perché, appunto, le realtà di terzo settore hanno fatto sì che nessuno nei territori, per quanto fosse possibile, nessuno rimanesse indietro, soprattutto coloro che sono in difficoltà. Allora, rispetto a questo tempo un po' di frammentazione, se è un po' anche la politica, un po' segnata da questa fatica, abbiamo deciso che fosse un segnale importante, bello, di un Paese anche che si ritrova, costituire questo network degli eventi di terzo settore. raccoglie, verranno presentati da Giovanna, alcune realtà già impegnate da tempo e presenti già nei loro territori e che già propongono da alcune da anni eventi di terzo settore, ma abbiamo anche il desiderio e l'intenzione di tenere aperto il network. Oggi il network nasce con alcune realtà, ma il desiderio dei fondatori, che adesso conoscerete, è quello appunto di aprirlo. Non è una sovrastruttura, non è un altro comitato, non è un'altra superorganizzazione, è semplicemente un luogo in cui le realtà che già lavorano sui territori si ritrovano per trovare convergenze, per trovare sinergie, per trovare alleanze, soprattutto per quanto riguarda i contenuti e la comunicazione. ci siamo messi insieme proprio per dire, proviamo a comunicare insieme i valori, le esperienze in cui noi crediamo. E quindi c'è Carpi, e quindi c'è Genova, e quindi c'è Napoli, e quindi c'è Palermo, spero poi non dimenticarmi ne degli altri, ma qui verranno presentati. L'ambizione nostra è appunto quella di convergere per raccontare un Paese che talvolta non viene mai raccontato. Non è solo il Paese delle buone intenzioni, non è solo il Paese dei valori dichiarati, ma è quel Paese, vi dicevo, che fa e opera già nel campo della solidarietà, nel campo anche dell'impresa sociale. Questi eventi che caratteristiche hanno? Com'è che si entra nel network? Ci siamo detti, devono essere eventi di qualità, eventi che hanno una certa duratura nel tempo, vuol dire almeno due o tre giorni. Ci siamo detti eventi che non sono soltanto convegnistica, seminare, perché di cui se ne fanno tanti, in giro per l'Italia, meno male. Ma eventi anche che coinvolgono soprattutto la città in cui vengono proposti, le persone, le famiglie, le istituzioni, la politica. Quindi se volete un po' un evento festa, tra virgolette, un evento in cui le città sono mobilitate. Abbiamo scelto anche questo nostro logo, che ci ha convinto, ci è piaciuto, ringraziamo Idea Comunicazione, Nino Santomartino e i suoi colleghi. È un logo che vuol dire che i colori dicono che siamo una realtà variegata, ogni evento ha una sua storia, è guai se volessimo tentare una omologazione, ognuno continuerà ad essere quello che è stato e nell'alleanza cercherà di migliorare per come vorrà essere. Quindi un evento con tanti colori, un evento è, scusate, un logo con tanti colori, come deve essere appunto il terzo settore, ed è un logo che ci dice che il cantiere è sempre aperto, che il cantiere è in continua costruzione. non è una casa compiuta, non è un palazzo già strutturato, ma l'idea un po' dei puzzle, dei colori, anche delle sigle, che dice di una realtà in movimento che vuole crescere, vuole maturare nel tempo, così come è il terzo settore. Infine, l'ultima mia considerazione, poi davvero lascio la parola a Giovanna, abbiamo concordato, e questo sarà un appuntamento annuale, che all'inizio di ogni anno il network, e noi ci auguriamo che l'anno prossimo magari saranno altre realtà che si aggregeranno a noi, presentano il calendario, come succede, degli eventi, quindi noi oggi presentiamo il calendario degli eventi che andremo a proporre nel 2014, ma anche abbiamo deciso di lavorare in questo modo, di dire all'inizio di ogni anno, nel cartellone dei cantieri del bene comune, di dire anche qual è il tema conduttore che in varie forme animeranno gli eventi che via via si svolgeranno durante l'anno. Il tema di quest'anno, il tema che abbiamo scelto, e appunto vi sembrerà strano perché nel nostro network ci sono anche appunto le realtà di volontariato, abbiamo scelto il tema del lavoro. In questo tempo dove il lavoro non c'è, ci è parso bello e importante che il filo conduttore di questi eventi fosse dedicato appunto al lavoro. Sotto due sfaccettature. una che riguarda molto le realtà di volontariato come luoghi in cui si acquisiscono competenze, abilità, oggi importanti e preziose per i giovani che vogliono entrare nel lavoro. Quindi il volontariato non produce lavoro, il volontariato vive nella gratuità. Eppure i giovani, lo dimostrano anche l'esperienza del servizio civile, eppure i giovani che fanno esperienza di volontariato, che vivono dentro le relazioni di volontariato, è noto a tutti voi, acquisiscono abilità, competenze, capacità di lavorare insieme, progettualità, lavorare per obiettivi, una certa flessibilità ai bisogni che via via cambiano. E a noi paiono attitudini e abilità preziosissime oggi per i giovani che cercano di inserirsi nel mondo del lavoro. Questa è la prima sfaccettatura. Lavoro come acquisizione di competenze e abilità, soprattutto nella realtà di volontariato. E questa è la prima sfaccettatura che andremo a indagare, sulla quale rifletteremo via 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 che il racconto degli eventi verrà sviluppato durante tutto l'anno. La seconda sfaccettatura, invece, è quella del lavoro che viene prodotto, il lavoro che c'è, ed è il lavoro che viene in qualche modo inventato, direi in maniera a volte magistrale, incredibile, dalle cooperative sociali e dalle imprese sociali. C'è il terzo settore che produce lavoro, gli imprenditori del sociale. Quindi il terzo settore è il volontariato che aiuta e sostiene le abilità e le competenze, fa maturare anche delle vocazioni e il terzo settore che fa impresa. E sapete oggi, e poi davvero finisco, che questo terzo settore imprenditoriale è uno degli settori che ha i tassi di crescita maggiore e i tassi di resistenza maggiore. Oggi le imprese che hanno maggiormente resistito in termini occupazionali sono le cooperative e le imprese sociali. Quindi di un settore che merita attenzione, un settore addetto anche da Union Camera e dall'Istat che nei prossimi anni sarà un, veicolerà buona occupazione a condizioni che questo settore venga aiutato e sostenuto nella sua capacità propulsiva di produrre lavoro. Sapete i temi, sapete l'area del welfare, sapete l'area della tutela della manutenzione dei beni ambientali e anche artistici e via di seguito un grande settore che oggi forse viene spesso trascurato e che in questi eventi verrà raccontato verrà in qualche modo riproposto alle comunità locali, ai politici e anche alle realtà, alle altre realtà imprenditoriali. Questo è un po' il tema, le parole chiave che ho cercato un po' di illustrare su questa avventura che abbiamo iniziato appunto che si chiama i cantieri del bene comune. I cantieri del bene comune e cantieri vi spievo il perché bene comune perché oggi forse se una ripresa ci sarà se questo paese tornerà di nuovo a crescere a sperare come tutti vogliamo e desideriamo lo potrà fare a partire dal bene comune e dai beni comuni spesso troppo trascurati in questi anni e oggi forse i luoghi in cui si può ripensare e ristrutturare un'economia più solidale e anche più competitiva quindi i cantieri del bene comune. Io ringrazio per l'ascolto che mi è stato concesso e affido la tavola a Giovanna Rossiello e io se mi vedete scappare è perché proprio devo andare a votare. Grazie oggi è una giornata importante perché finalmente nasce la rete di chi sul territorio è impegnato tutti i giorni a fare il bene il bene comune per sé per gli altri e per il posto in cui si vive. Ogni volta che lo ricordo Tommaso Cestrone mi commuovo sempre un po' era l'uomo coraggioso morto a dicembre detto l'angelo della reggia di Carditello che per anni da solo ha preso si è preso cura della reggia borbonica di Caserta occupandosene e liberandola dal degrado dalla speculazione dalle minacce della camorra facendo questo lui si prendeva da solo cura non solo dei beni comuni materiali ma anche di quelli immateriali che sono la memoria la tradizione e il senso e il senso di stare lì da solo c'è una sua foto bellissima con lui alla reggia che c'ha un cartello che dice ma quanto tempo resterò solo a fare il volontario ecco per lui credo che sia il momento giusto di far capire che le persone impegnate come lui non sono più sole ma hanno capito che o di un'associazione o di un'altra è giusto far capire che c'è l'Italia del bene la fabbrica portata avanti del bene dalle persone per bene che ci sono ma che finora sono state sì viste come buone che però non contano perché c'è sempre qualcos'altro io sono al coordinamento del Tg1 che è la redazione centrale quindi vedo tutto il male tutte le rogne tutte quelle notizie che non vorrei mai dare però per mantenermi il punto di vista umano per me fondamentale da dieci anni il curo Tg1 fa la cosa giusta come volontariato per carità però è quello che mi dà il senso ed è la ricerca di qualcosa che funzioni a prescindere nonostante i momenti duri di chi si sporca le mani lavorando insieme o da solo cercando di dare risposte al territorio per questo con il terzo settore con Edo Patriarca con tutti i protagonisti di questo splendido mondo che è dato per scontato ma non è così ma che può fare tanto di più perché ci sono tantissimi bellissimi solisti che adesso devono imparare a fare rete per dare insieme la visibilità giusta di un'Italia che esiste che si fa bene e che si impegna per il bene comune quindi credo che questo questa adesso Italia che si sposta che andrà dal nord al centro al sud ha proprio la risposta per situazioni complicate situazioni che sono la risposta di un welfare di comunità perché se io che ho un'associazione che si occupa di bambini e tu hai un'associazione che si occupa di anziani e insieme è la vita è la vita di tutti i giorni ed è questo che deve essere visto creando lavoro ma creando anche valori e questa è quell'Italia bellissima che in questo momento oscilla tra la grande bellezza e la grande bruttezza penso al dolore di Pompei che ogni giorno viene sfaldata si sfalda ecco però c'è una via di mezzo che è l'Italia dei cantieri del bene comune volevo ricordare che io da dieci anni ma adesso da un anno con il Corriere della Sera con il TG1 con il Corriere della Sera ha creato questa partnership che è quella di dare la sponsorizzazione al Festival del Volontariato perché finalmente i due più grandi organi di informazione card stampata e televisione si sono messi insieme per dire ok il Festival del Volontariato e tutto quello che nasce intorno e dentro al terzo settore è degno di notizia quindi noi diamo visibilità a queste notizie e se non sono notizie considerate grandi che cambiano le cose del mondo certamente aiutano nella vita di tutti i giorni tutte le persone e questo credo che sia una partenza ormai siamo insieme da un anno Corriere della Sera e buone notizie Luca Mattiucci e tutto lo staff e TG1 fa la cosa giusta che adesso diventerà sempre più importante speriamo anche con le vostre idee e con le video chat che possiamo fare insieme allora io adesso darei la parola appunto a Gianluco Testa per il Festival del Volontariato che è la prima tappa ah ecco volevo ricordare scusa Gianluca che il 27 che cosa succederà il 27 marzo faremo insieme la lobby dei buoni esatto riesco ad attivarlo sì in realtà ci vedremo il 27 marzo di nuovo nelle sale della Camera insieme a Giovanna quindi a TG1 insieme a Corriere insieme ad altri colleghi giornalisti non solo del mainstream ma anche ma anche di settore semplicemente per poter riuscire a raccontare davvero quella che è l'Italia che fa bene con il doppio significato che di fatto ha già ben declinato Giovanna sicuramente questo appuntamento lo presenteremo nel dettaglio nei prossimi giorni non è questo il contesto però è bene ricordarlo perché fa parte di un percorso anche questo appuntamento quello del 27 che porterà poi al Festival del Volontariato che di fatto è il primo appuntamento di questo network visto che il tempo stringe non starò a soffermarmi troppo su ciò che è il Festival quello che ricordo è che il Festival del Volontariato che fra l'altro sarà presentato ufficialmente proprio il 27 di marzo nell'occasione dell'Italia che fa bene è il primo degli appuntamenti come dicevo di questo network posso solo ricordare quelli che sono i macro temi e dare una piccola anticipazione il Festival dallo scorso anno quindi dal 2013 si sviluppa a Lucca città che ha ospitato i primi conveni nazionali del Volontariato città nella quale è nata la legge 266 sul volontariato città nella quale non a caso di conseguenza è nato anche il centro nazionale per il volontariato con Mariletta Martini Giuseppe Bicocchi tanti che come loro hanno lavorato a questo percorso da Tavazza ad Ardigò insomma e andando avanti su quella linea quindi questo è il motivo per cui Lucca è il centro del Festival dove abbiamo deciso di riportare un luogo di incontro e confronto cercando di puntare tutto sulla promozione culturale sull'unione di esperienze e soprattutto cercando di tenere percorsi cercare di consorziarci laddove in realtà l'Italia ogni pezzo va per conto suo quindi cerchiamo di restare uniti e cerchiamo di creare un confronto per un obiettivo comune men che meno oggi è più utile viste le difficoltà che su più fronti attraversiamo come ha detto Edo il tema principale sarà quello del lavoro per il Festival così come per gli altri appuntamenti ci sarà spazio anche per la protezione civile anche quest'anno avremo ospite Gabrielli e faremo tutto un ragionamento in collaborazione con il Dipartimento su quella che è la comunicazione nelle emergenze tant'è che al momento c'è una cola aperta per tutta l'associazione di volontariato ma anche per gli enti che in realtà utilizzano delle pratiche di comunicazione in caso di emergenza l'obiettivo è quello sostanzialmente di certificare la fonte quando si verifica un'emergenza di protezione civile e quindi sì ci sarà Gabrielli e questa è l'unica anticipazione vera l'altro tema sarà quello del lavoro si parlerà ancora di comunicazione sia perché proseguiremo il percorso dell'Italia che fa bene sia perché ci dedicheremo anche a quella che abbiamo definito la comunicazione decentrata ogni periferia è un centro ma anche questo lo vedremo più avanti e sicuramente si tornerà a parlare anche di carcere visto che il CNV insieme ad altre associazioni che si occupano di questo tema dal luglio scorso ha avviato un gruppo di lavoro l'obiettivo è quello di promuovere una proposta di legge che possa incentivare riconoscere istituzionalizzare le misure alternative alla pena e non solo questo stiamo anche mappando con la fondazione volontariato di partecipazione quelle che sono ad oggi le strutture di accoglienza quindi questa è la linea sicuramente i primi nomi li diremo il 27 di marzo quel che è certo è che ci sarà oltre ad una discreta e forte rappresentanza dell'associazione italiana delle reti ci sarà anche qualche rappresentante dell'attuale governo con cui cercheremo nel rispetto della nostra mission di impostare un dialogo in questa direzione quindi grazie mille e a questo punto andiamo avanti e andiamo Lamberto Menozzi primavera del volontariato a Cati mi riaggancio a quello che diceva l'amico Gianluca Testa sul fatto che dei politici avremo una controparte con la politica anche perché credo che con i comuni virtuosi dietro che dietro hanno anche i politici che cercano delle strade virtuose si possano fare degli incontri dei confronti che sono che vanno oltre la battuta veloce sulla crisi di governo e su tutte le cose alte che sappiamo e che aprono sempre le prime pagine dei giornali quindi cercare dei terreni comuni che se vanno bene per un comune facciamo conto Carpi possano aiutare altri comuni in altre parti ad essere virtuosi come loro grazie bene la nostra iniziativa si chiama Primavera del Volontariato è promossa dalla fondazione Casa del Volontariato che è un ente strumentale della fondazione Cassa di Risparmio di Carpi unitamente alla consulta del volontariato si svolgerà nel centro storico di Carpi dal 16 al 19 maggio la manifestazione si può gli obiettivi si possono raccogliere in tre parole avvicinare promuovere e consentire avvicinare la cittadinanza alla realtà importante del volontariato carpigiano portando le associazioni in piazza nella magnifica piazza Martri di Carpi che Giovanni ha avuto occasione di vedere qualche tempo fa promuovere la cultura del volontariato e della solidarietà attraverso momenti di dibattito ma anche con eventi sportivi culturali e di socializzazione consentire alle associazioni la propria attività di presentare le proprie attività alla cittadinanza di raccogliere fondi attraverso la gestione di bancarelle della solidarietà che solitamente propongono in vendita oggetti creati materialmente dai componenti delle stesse associazioni anche a Carpi il motivo dominante sarà il tema del lavoro del volontariato con una conferenza con la partecipazione di esponenti di livello nazionale la sera del 16 di maggio il giorno successivo si apriranno le bancarelle in piazza martiri che saranno presenti anche la domenica un altro momento importante sarà un'iniziativa contro il gioco d'azzardo perché riteniamo che sia una delle cose da contrastare in questo momento perché sta dilagando in modo impressionante ci saranno poi anche degli eventi di trattere così culturale come una mostra di acquerelli una mostra di umoristica siamo umoristi a Carpi nel 2014 sempre sul tema del lavoro avremo altre iniziative la domenica con una rassegna di corali per chiudere in bellezza con una esibizione di danza sportiva la sera del giorno 19 nel quartello del Pio questo è il programma della nostra amministrazione volevo ringraziare Edo che così ci ha consentito di entrare in questo nuovo e mi auguro che così con l'aiuto di tutti si possa migliorare l'azione del volontariato sul territorio grazie so che c'è anche un rappresentante di dire e fare l'evento promosso dall'Associazione Nazionale dei Comuni della Toscana ed è una rassegna vuole intervenire è la rassegna dedicata all'innovazione e allo sviluppo dell'amministrazione pubblica locale promossa dall'Anci Toscana e dalla Regione Toscana e mette in campo le migliori buone pratiche dei comuni della Regione Toscana adesso diamo la parola a Giuseppe De Stefano del Centro Servizi Volontariato di Napoli che ci parlerà della fiera dei beni comuni Giuseppe De Stefano quindi stiamo veramente attraversando tutta l'Italia questo è un segnale importantissimo di far capire che la rete c'è e prende corpo grazie nella introduzione la dottorista Rossiello ha ricordato due beni comuni che ci circondano ci attanagliano ci trafiggono il cuore Carditello Pompei questo ha determinato una vocazione da sempre del nostro volontariato ad approcciare il problema del bene comune la nostra fiera dei beni comuni quest'anno è alla nona edizione nasce in verità non gestita dal centro servizi per il volontariato ma nasce dal basso nasce da un'esigenza di presentazione di partecipazione da parte delle associazioni di volontariato del nostro territorio alla tematica di tutti i beni comuni all'epoca parlavamo di acqua pubblica all'epoca parlavamo di aria oggi più che mai nella terra dei fuochi parliamo di problemi ambientali oggi più che mai avvertiamo la sensazione che non possiamo prescindere dal passaggio nella scuola nei giovani attraverso i giovani e così vi sto snocciolando più o meno quello che troverete a settembre a Napoli nella fiera dei beni comuni troverete 3-4 percorsi che vi accompagneranno lungo queste direttrici e porteranno alla fine a determinare un pensiero del mondo del volontariato napoletano quest'anno grazie all'adesione ai cantieri che abbiamo anche un po' ispirato abbiamo aggiunto il percorso della creazione del lavoro e qui da quando ci siamo messi alla ricerca nella organizzazione della nostra fiera di questo canale aggiuntivo per stare nella famiglia dei cantieri stiamo scoprendo quanto il volontariato proponga e quanto il volontariato stia producendo come creazione di lavoro nel nostro territorio troverete nel percorso di creazione del lavoro che stiamo predisponendo una serie interminabili di esperienze di campo in cui le associazioni di volontariato che hanno in questo momento nel terzo settore il ruolo principale di sperimentazione di nuove strade che da sempre attengono al volontariato la promozione e l'incubazione di imprese sociali e di cooperazione che poi portano e consolidano queste sperimentazioni ne abbiamo di tutte l'ultima che è passata per le nostre mani del centro servizi del volontariato in un progetto pilota che stiamo avviando in piazza Mercato piazza Mercato a Napoli è quella che tutti ricorderete nell'immagine del funerale di Totò affollatissima con questa bara portata a spalla da tutta Napoli quella piazza oggi è un deserto è una periferia al centro della città perché quella piazza Mercato che era la piazza dell'attività commerciale delle attività produttive della sartoria del borgo degli orefici napoletani si è svuotata è diventata nulla oggi noi lì stiamo ricreando col volontariato con le forze del volontariato un'operazione di progetto questa operazione ha portato già a 20 assunzioni a 20 posti di lavoro di 10 ragazze che si sono avviate alla sorteria di alta qualità e altre 10 che stanno promuovendo l'animazione del territorio ma di cose di questo tipo nella fiera del bene di comune ne troverete tantissimo un'ultima piccola notazione se ci consentite da bravi napoletani la dobbiamo fare l'opportunità dei cantieri ci ha tra virgolette molto ben volentieri costretto a modificare la nostra tempistica noi normalmente organizzavamo anche noi in primavera però il calendario era già affollato nella nostra primavera come avete visto da quelli che mi hanno preceduto ci siamo spostati ci siamo spostati guardate caso a settembre nei giorni di San Gennaro nei giorni del miracolo di San Gennaro io spero che così faremo anche l'ennesimo nostro miracolo ultima cosetta collegata al miracolo di San Gennaro non potevamo non preparare per tutti voi un pacchetto di accoglienza turistico che attraverserà i beni comuni che il volontariato sta tutelando oggi basta dirvi che vi porteremo nelle catacombe di San Gennaro che sono il miracolo dell'occupazione nel rione sanità venite e vi faremo vedere come il volontariato in quel tessuto è l'unica grande speranza che il territorio può vantare grazie ovviamente lei deve essere dei nostri assolutamente e tutto questo che stiamo raccontando dell'Italia che fa bene quindi proprio la vediamo da Carpi a Napoli tutto Luca questo ci porta a dare un'altra buona notizia che in Italia per la prima volta sarà creato e ci sarà il giorno del dono ce ne parla la nostra Ornella Ponzoni dell'Istituto Nazionale del Dono è un evento che già c'è a livello europeo ma quest'anno a degno compimento di tutto questo Italia dei dei il cantiere dei beni comuni è una bellissima cosa una bellissima notizia Ornella grazie mille Giovanna tra l'altro mi fa piacere perché Giovanna ha seguito fin dall'inizio l'iter che abbiamo condotto anche l'iter che adesso sta prodando in Parlamento per l'istituzione del giorno del dono a livello nazionale perciò colgo l'occasione ovviamente per invitarvi tutti e soprattutto per invitare anche Giovanna che ci ha sempre seguito anche in questa occasione il luogo è ancora da definirsi ma la data invece è sicura sarà il primo ottobre 2014 ci auguriamo di poterlo davvero celebrare come il primo vero giorno del dono perché ci auguriamo ovviamente che la legge da disegno diventi approvata entro quella data e appunto come dicevamo è un augurio che faccio qui e non lo faccio a caso in questa sede perché mi auguro davvero che ciò diventi reale davvero a breve è stata assegnata la commissione deliberante perciò questo ci permette di poter dire che sì i tempi dovrebbero essere davvero brevi e l'iter parlamentare sta andando avanti non mancheremo ovviamente di tenervi aggiornati perché per noi è molto importante il giorno del dono è inteso come giorno del dono in tutte le sue forme di dono noi come istituto della donazione ci occupiamo prevalentemente di dare questo marchio di qualità alle associazioni che vogliono appunto certificarsi diciamo così perciò parliamo forse di donazioni più in denaro ma vogliamo dimenticarci delle donazioni di tempo come il volontariato o anche di beni di servizi e di competenze perciò un po' dono a tutto tondo davvero l'invito è esteso è esteso a tutti ci farebbe piacere avervi tutti presenti non mancheremo di aggiornarvi sugli ulteriori sviluppi soprattutto sull'iter parlamentare grazie mille e adesso andiamo al nord andiamo a Genova con la biennale della prossimità Giorgio Tabacchi mi piace ricordare intanto che stiamo non so se vi siete resi conto che stiamo coordinando tutte le parole della solidarietà il dono la solidarietà la prossimità e stiamo scrivendo le parole che danno poi valore e danno senso al nostro essere italiani brava gente vai allora con lo stesso entusiasmo del nostro amico napoletano segnatevi queste date siete chiaramente tutti invitati e speriamo di riuscire a fare qualcosa di importante prendo solo ho dei miei appunti che devo solo aprire qua scusatemi un attimo la città di Don Gallo che tanto ci ha dato e tanto continua a dare con tutte queste splendide iniziative Genova è decisamente molto molto in questi anni si è anche un po' rilanciata ne sentiva il bisogno allora come vedete in alto vedete un partenariato un partenariato composto da realtà del Sud Italia e del Nord Italia uno degli elementi che ci caratterizza un po' tutti che ci piaceva così riportarvi è che siamo tutte realtà di lunga storia di lunga storia di accoglienza di lunga storia di vicinanza di realtà problematiche questo è il primo passaggio e questo ci ha portato come la storia insegna insegna a essere così capaci di guardare problemi guardare le difficoltà ma anche capaci di cercare delle soluzioni a dei mondi impossibili perché voi sapete che in realtà in Cisinate il vero problema sono trovare delle soluzioni allora questo gruppo ha avuto questa piccola affinità che l'ha messo insieme è un gruppo molto recente di costituzioni ma questa affinità è questo che ci ha legato il secondo elemento che abbiamo visto è ovvio abbiamo visto l'evoluzione perché la storia ti permette di vedere l'evoluzione della società e vedi come oggi siamo passati da situazioni di grande disagio a un aumento vertiginoso di situazioni molto vulnerabili e allora le nostre realtà si sono confrontate non solo con il disagio conclamato non solo con le situazioni molto difficili ma si sono confrontati con una miriade di situazioni di persone in difficoltà nelle forme le più varie di tutti i tipi basta pensare e faccio un esempio dove 15 anni fa i servizi per l'infanzia ma no totalmente tutti i servizi c'è una presenza del 5% di stranieri oggi stiamo parlando dei servizi del 70% è una rivoluzione totale di quali possono essere i problemi cioè nei nostri cari lettori 15 anni fa non sono più attuali il terzo passaggio e quindi abbiamo una storia a noi credo che il primo elemento che ci tiene legati come partenariato è la capacità la concretezza siamo un gruppo concreto e più che mettere la persona al centro tenendo l'occhio alla persona al centro perché la persona è fondamentale ma quello che vogliamo mettere al centro sono le soluzioni e quello che vogliamo mettere veramente al centro sono le soluzioni in questi anni ci siamo allenati in questa direzione il nostro incontro è stato una grande sorpresa queste realtà come si sono incontrate si sono incontrate per quel movimento quella curiosità quella voglia di conoscere altri di vedere altri ed è stata una grande sorpresa proposte concrete in vari ambiti adesso poi proverò a declinare ma tutte con una caratteristica che sono tutte proposte costruite sul territorio sono tutte proposte e soluzioni fatemi passare il termine a chilometro zero questo è l'altro la grande caratteristica di ciò che intendiamo e che ci ha messo insieme ancora prima di passare al secondo punto vi vorrei raccontare due piccole storie la prima proprio perché parliamo di lavoro tre giorni fa parlavo con la responsabile dei centri per l'impiego di Torino e mi ha detto George vieni vieni a vedere i centri per l'impiego vieni a vedere cosa sta succedendo una coda enorme polizia è tutto blindato operatori con il terrore dell'incontro con i disoccupati una realtà che non si racconta a sufficienza ma ci tenevo a rimarcare visto che il tema di questo anno sarà il lavoro la seconda esperienza che è un po' più simpatica un po' più così è un'esperienza fatta con un gruppo di educatori in una città in un quartiere periferico di Genova in cui a un certo momento volevamo capire l'impatto dei nostri servizi volevamo capirlo incontrando la popolazione di questi palazzi palazzi che sono stati costruiti famosi costruiti negli anni 70-80 in cui hanno preso tutti quelli centri storici che hanno messi lì insomma ogni città il suo quartiere periferico eccetera questi educatori che volevano comprendere un po' sono andati e sono andati a incontrare sono entrati dentro 90 appartamenti la scusa che avevamo trovato per capire l'impatto era di dire ma come ve l'accavate con la crisi qui non era una ricerca scientifica e quindi qualunque sociologo avrebbe tanto da ridire sul metodo ma l'obiettivo era quello di entrare in contatto e di riuscire a capire e avere il sentore di quello che succedeva è stato molto interessante gli operatori sono tornati sconvolti hanno durato due mesi più o meno questi vari incontri e le cose che sono immerse sono immerse molta povertà gente che non prendeva il pullman perché non aveva i soldi per il biglietto gente che mangiava solo ali di polo perché solo quello si poteva permettere e quindi gli operatori sono andati a confronto con una realtà dura perché è una città del nord però è così e quindi alla fine nel loro report ci siamo detti ma e quando abbiamo chiesto ma qual è l'elemento ciò che vi ha colpito di più ma sempre che glielo chiedessimo sostanzialmente però è emerso subito e quindi qual è l'elemento della crisi che ti colpisce di più e l'elemento che allora ha stravolto allora ha stravolto è la mancanza è il non potersi fidare non mi posso fidare del mio vicino non mi posso fidare delle istituzioni non mi posso fidare del paroco non mi posso fidare non entro nel merito non entro nel merito ma allora il secondo elemento sul quale noi sentiamo come biennale è proprio la grande voglia e quindi dopo la concretezza è di favorire legami di fiducia e partecipazione perché questo è la cosa i traguagli sul quale vorremmo lavorare spero che non sia stata la pagina che ci sia ancora perché c'è la seconda parte degli appunti e ogni volta mi fa così ma ci arrivo subito scusatemi costruire legami di fiducia questo è solo costruire legami di fiducia sì torniamo a noi noi ci siamo incontrati e abbiamo detto però non vogliamo perderci di vista ognuno dice ma tu aderisci alla mia organizzazione ma no io aderisco alla tua vediamo come si può fare eccetera ma la nostra voglia di concretezza è stata quella di dire tutti insieme invece di aderire gli uni agli altri riconosciamoci non perdiamoci di vista ma costruiamo qualcosa e allora abbiamo detto costruiamo un evento costruiamo un evento ma non un evento costruiamo la biennale quindi un evento oggi poi la biennale perché le forze sono quelle che sono e costruiamo un evento un evento che però si possa ripetere ma un evento aperto ed è lì che credo chiediamo un aiuto a tutti primi se noi un evento che sia capace di promuovere tutte le forme di aggregazione e di partecipazione che sia in grado di promuovere tutto quello che i cittadini mettono in piedi vi dico entro vi dico se sono ancora in tempo dobbiamo chiudere ho capito ma volevo solo abbiamo capito che appunto volete costruire legami di fiducia questo è il vostro compito no e poi vorremmo un po' commuovere degli spazi per cui le persone va bene allora noi stiamo lavorando vi dico più o meno le cose su quale questa rete sta lavorando sta lavorando su il microcredito e il credito al consumo sulla coabitazione sugli affitti a prezzi camierati sui vari gruppi di acquisto sulle dispense sociali con i suoi supermarket ai centri di prossimità che creano legami offrono sostegno consulenze le monete alternative il baratto le mutuo integrative la salute la qualità di vita la mutualità e le banche del tempo l'animazione di strada e il tempo libero vorremmo poter dare se sarà possibile un grande palcoscenico una grande festa dove tutti possono raccontarsi scambiare perché abbiamo detto a chilometri zero spesso non si conosce quel che fa l'altro e poter crescere insieme grazie grazie George e se abbiamo finito posso dare la parola al prossimo ospite che è Salvo Borrelli dell'happening della solidarietà della Sicilia e quindi con la Sicilia chiudiamo questo nostro vagabondare per l'Italia del bene che dà risposte e sentiamo in che cosa consiste questo happening della solidarietà grazie grazie buongiorno a tutti l'happening è una di quelle manifestazioni che è definito un investimento della rete solco e delle cooperative aderenti alla nostra rete regionale un evento che viene realizzato proprio per mettere in scena le questioni delle politiche del welfare complessivo nella comunità siciliana quindi lo dico con orgoglio perché da 15 anni produciamo questo evento il tema di quest'anno è un tema sì collegato alle politiche del lavoro il lavoro è una di quelle difficoltà che è stato vissuto per molti anni al sud come un sistema più assistenziale che imprenditoriale avere oggi dal 16 dicembre Solco quale incubatore riconosciuto dal Camera di Commercio nazionale ci pone ovviamente in un'attività che è conseguenziale a quello che è stato lo stile diciamo naturale della rete Solco riuscire a creare impresa e con l'impresa riuscire a creare quei sistemi partecipati della comunità locale per la riqualificazione anche del bene comune intendendo bene comune non solo i beni della pubblica amministrazione ma nel nostro territorio sono molti beni comuni che sono di proprietà anche di privati ma che stanno proprio nel bel mezzo dei monumenti dell'UNESCO rete a cui la Sicilia col suo barocco fa capo parliamo di creare un evento portando anche esempi concreti perché l'incubatore di Solco già ha iniziato la sua attività esempi concreti nel mondo dell'amministrazione penitenziaria esempi concreti con i giovani esempi concreti con i disoccupati i nuovi disoccupati di età più avanzata esempi di nuove attività di impresa relativamente al mondo della disabilità che anziché assistere a un processo assistenziale vero e proprio che ovviamente amplifica la spesa sociale andremo a presentare anche concretamente sistemi di impresa dove i ragazzi fanno impresa e occupano se stessi nell'impresa che è di proprietà quindi una attività saranno presentate attività di sinergia anche col mondo del volontariato credo che sia anche un elemento importante per il coinvolgimento della comunità locale e saranno anche prodotti attività di empowerment relativamente all'individuazione di quei giovani o quelle nuove idee che meritano ovviamente un rafforzamento della propria coscienza di capacità imprenditoriale cosa che a volte viene a mancare si ha paura l'altro sistema è quello di andare a fornire tramite esempio l'incubatore tutto quello che è la possibilità di poter accedere al credito di persone che al credito non hanno accesso quindi noi ci poniamo l'obiettivo che già è in corso di integrare le idee e quindi incubare delle idee che possono avere le loro gambe che hanno la sostenibilità che provengono da persone che hanno un talento che non vogliamo che vada oltre la nostra Sicilia perché no anche oltre la nostra nazione le tecnologie mettere in rete il know-how e metterlo tutto all'interno di una rete che possa passare da un processo assistenziale a un processo imprenditoriale vero e proprio cioè noi pensiamo che la nostra azione così come è stata manifesta in questi anni della rete solco sia quella di andare a fare imprese imprese nel sociale di valorizzare i singoli territori con le persone che vivono delle difficoltà in quel territorio per fare questo ci avverremo ovviamente di autorevoli rappresentanti a livello nazionale a livello locale e perché no delle esperienze dei nostri ragazzi li chiamo tutti ragazzi mi sento anche io un ragazzo come loro perché questo è un tipo di attività che ci fa sentire sempre giovani nel dare un servizio alla comunità grazie allora se ci sono domande e poi direi con Edo facciamo le conclusioni grazie ti presenti buongiorno Angela Brescia dell'Agenzia Anza una domanda all'onore del patriarca questa diciamo effervescenza di iniziative nell'ambito del terzo settore per caso ha avuto un input da questo interesse del premier Renzi dichiarato fra l'altro sin dal primo momento per il terzo settore l'idea il progetto come anche a tanti altri progetti sono in incubazione da tanto tempo Angela quindi questa idea del network in realtà ha richiesto 5, 6, 7 mesi di lavoro e quindi non è strettamente collegata alla vicenda del nuovo presidente del consiglio certo che questo è un auspicio che faccio così da parlamentare ma anche così da uomo del terzo settore certo è che se il nostro presidente del consiglio conferma la sua l'intenzione di operare attivamente a sostegno del terzo settore credo che anche questa rete di eventi sarà anche un'occasione perché questo processo che ha annunciato più volte da Matteo Renzi trovi spazi e trovi finalmente una concretezza io dico spesso sono tanti anni che attendiamo lo dico adesso da parlamentare ma lo dicevo prima in altra veste sono mai dieci anni che attendiamo che l'agenda del terzo settore trovi finalmente qualche atto di concretezza dal 5 per mille fino ad arrivare alle imprese sociali speriamo che davvero il nuovo governo operi in questa direzione e l'auspicio che poi questi eventi rafforzino questo processo evidentemente pur nella reciproca autonomia perché è bene che ciascuno faccia il proprio mestiere in piena autonomia perché poi si parla di lavoro è il tema di quest'anno la festival del volontariato è il lavoro quindi far capire come un meccanismo virtuoso cioè il giovane che fa volontariato viene comunque impostato con il servizio civile con il dedicarsi occuparsi degli altri qualcosa che ti forma e ti resta e ti aiuta a fare anche delle scelte di vita che poi nella cooperazione e nell'impresa sociale possono trovare una continuità nel mondo del lavoro altre domande? insomma Edo noi ci siamo abbiamo cominciato questo è un cantiere abbiamo fatto vedere l'Italia che c'è da nord a centro a sud e non perdiamoci di vista cioè dobbiamo sempre aggiornare e tener conto e dare conto di quello che in questo campo si fa e si danno le notizie perché il tema centrale del network lo abbiamo condiviso insieme è appunto quello del poter raccontare e comunicare e quindi io non posso che ringraziare i giornalisti che sono oggi qui presenti Giovanni Rossiello e anche altri che ci stanno seguendo perché a volte l'impressione che abbiamo avuto in questi anni è che questo racconto sia stato sempre espulso dal racconto del paese quello che incombe continuamente nel nostro paese allora un network degli eventi e speriamo che si allarghi e si ampli è un modo anche per raccontare attraverso non come dirvi dichiarazioni altisonanti ma nella concretezza dei territori nelle cose che si stanno facendo raccontare che appunto la solidarietà i valori in cui in qualche modo crediamo non sono solo valori teorici principi teorici ma producono benessere e addirittura vedi l'esperienza delle cooperative sociali vedi l'esperienza delle imprese sociali producono lavoro la scommessa di questo network assieme alle reti di teso settore al forum a CSVnet a tutte le grandi reti che operano sui territori è di contribuire a raccontare questo paese impegnato non solo nei valori nella tutela dei diritti eccetera eccetera ma anche a produrre buona occupazione c'è bisogno di dare speranza mai come in questo momento è come un po' una ricostruzione una ricostruzione che non parte più dall'io ma parte da noi e questa consapevolezza ha fatto nascere la rete il network dei campieri del bene comune il nostro Gianluca Testa voleva dare una comunicazione questo giusto per infatti mi scuso per essermi mosso durante tutta la conferenza stampa ma comunicare di fatto è il nostro mestiere quindi esatto è proprio per questo che volevo rubarvi gli ultimi 20 secondi per dire che nel comunicato stampa in fondo quello che avete ricevuto non c'è un contatto univoco in realtà questo dimostra la totale il totale approccio orizzontale a pari che abbiamo sulla promozione di questo network questo significa che se avete bisogno di informazioni potete come primo step rivolgervi sia all'ufficio stampa del centro nazionale del volontariato per il volontariato sia a quello dell'istituto italiano per la donazione sia a CSV Napoli insomma in realtà ognuno di noi è referente in questo ambito quindi se avete bisogno noi ci siamo e grazie di esserci stati al momento no al momento no ma realizzeremo è un cantiere è un cantiere aperto questo lo svilupperemo per cercare di creare un punto d'unione di attivare per ogni singolo evento il nostro impegno e mantenere una grande alleanza tra gli uffici stampa quindi vi chiederemo anche di seguirci l'appuntamento sarà quello l'anno prossimo 2015 già ve lo diciamo sperando di proporvi un cartellone degli eventi del suo settore ancora più ricco di quanto sia già ricco quello che vi presentiamo oggi questo per dire che poi insomma ecco questo paese in qualche modo sta andando avanti nonostante tutto sta andando avanti grazie